bella ragazzi guardi qui a VT9 ed eccoci qui tornati di nuovo come al solito nel tempo di sponsorizzazioni per i quattro canali che oggi ho scelto di portarvi il primo canale dove che andrò a sponsorizzare è quello dei video del tubo questo canale gestito da due ragazzi che nei video possiamo vedere che ha che portano degli sketch diciamo divertenti anche loro fanno sponsorizzazioni e diciamo basano tutto il loro lavoro sulla simpatia fanno questi sketch molto carini e chi vuole può andare a vedere i loro video per farsi due risate e nelle informazioni troviamo la descrizione che dice ciao a tutti ragazzi in questo canale tratteremo principalmente video divertenti e parodie perciò se vi piacciono se vi piacciamo guardate qualche nostro video mi raccomando iscrivetevi per qualsiasi eventuale collaborazione con persone che trattano la stessa che vi vedete i video noi siamo pronti a collaborare basta inviarci un'email e mettere anche il link del proprio canale se volete andare a vedere anche il nostro canale backstage che trovate qui sotto e come potete vedere i video del tubo backstage e niente ragazzi come ho detto prima se volete fare due risate passate al canale loro e iscrivetevi prossimo canale il secondo canale è di ale power ale power è un ragazzo che ha iniziato veramente da poco la sua diciamo carriera su youtube fatti nelle informazioni troviamo che la sua iscrizione 5 settembre 2015 e a 14 iscritti e ha portato solamente sul suo video sul suo canale due video che comunque uno ha 60 visualizzazioni e l'altro 17 non male comunque per un inizio quindi per chi è interessato a minecraft passasse dalle power che comunque è un ragazzetto che ha iniziato adesso da moglie la giusto il giusto aiuto per proseguire questa questa strada il terzo canale è degli z fantastic 2 che in questo canale principalmente è portato da un ragazzo che però molte volte fanno anche video in compagnia con un suo amico e altri anzi anche due tre amici suoi lui principalmente porta giochi su pc non poco spesso sul console non quasi mai sul console e come possiamo vedere c'è clash of clans c'è minecraft principalmente sempre minecraft ed anche dei piccoli dei piccoli video un po così generali e anche lui fa video delle sponsorizzazioni e poco tempo fa mi sembra ecco qui un mese fa ha sponsorizzato anche a me quindi ancora vi ringrazio ragazzi la sua descrizione dice che bella a tutti e benvenuti nel canale dei fantastici due vi volevamo dire che se vi iscrivete vi dicevi con un commento che noi ci scriviamo al vostro canale spero che stiamo facendo minecraft e forse anche point blank grazie iscrivetevi tra poco forse ma forse faremo una nuova serie della sponsor infatti l'hanno intrapresa abbiamo preso l'idea di native xd che ci ha sponsorizzato e lo ringraziamo visita il suo canale e se questo canale vi piace iscrivetevi ok loro hanno 161 iscritti quindi non neanche neanche male come iscritti e niente io dico che comunque se siete interessati a essere sponsorizzati soprattutto e anche comunque a seguire minecraft e clash of clans perché mo vedo che comunque sta portando tantissime volte clash of clans passate sul suo canale iscrivetevi bella quattro canale l'ultimo canale di oggi di psychedelic e sì psychedelic psychedelic è un ragazzo che porta solamente minecraft da come potete vedere qua dei suoi video e fa anche comunque secondo me miniature molto carine cioè questa qui del nomad è veramente cioè secondo me secondo la mia opinione è veramente fatta bene comunque minecraft psychedelic nella descrizione dice salve a tutti ragazzi io sono psychedelic e benvenuti nel mio canale spero tanto di riuscire a intrattenervi con i miei video tratto principalmente minecraft ma arriveranno molto presto anche se ne su altri giochi quindi state su psychedelic che psychedelic non so quante volte ho detto al momento faccio due video al giorno che escono alle 15 alle 18 anzi la descrizione è finita andate in pace cosa ancora qui raga piuttosto di rimanere qua correte a vedermi i video e infatti andiamo tutti i nostri video e niente ragazzoli anche questo video delle sponsorizzazioni è terminato vi ricordo che per essere sponsorizzati basta iscrivervi mettere in piace e commentare qui sotto con scritto sponsorizzami oppure ciao ciao amici sia puoi sponsorizzarmi arrivederci e niente io come al solito vi mando un bacione e se vediamo al prossimo video ragazzi ciao ragazzi